Francesco Ambruosi, siamo a San Marino di Bentivoglio e adesso siamo qui presso la mia azienda con il peperone Friggitello, uno dei miei cavalli di battaglia, 4-5 anni che abbiamo ripreso a produrlo. Nel mio caso il Friggitello è stata una scommessa e oggi penso di dire che l'ho vinta. Noi giovani portiamo un po' di innovazione, di voglia di fare, di provarci, di crederci e quindi magari ci lanciamo di più rispetto a un'azienda già storica che continua a fare sempre quello che ha fatto. Sicuramente giovani e anziani insieme sarebbe il top, ma nel mio caso sono cresciuto in fretta e ho portato avanti l'azienda. L'orgoglio per me è avere la soddisfazione di portare i propri prodotti al consumatore finale con un livello qualitativo il più alto possibile nelle condizioni climatiche che oggi subiamo, cercando di voler fare sempre di più ormai sono sempre in azienda e quindi il tempo sicuramente, però sono anche cresciuto a livello di qualità e di quantità rispetto a qualche anno fa, quindi tutte le ore di luce che ci sono vengono sfruttate per dare il massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.